Buongiorno e ben trovato a tutti. All'inizio di un pomeriggio importante ci troviamo oggi alle ore 14 in diretta sulla pagina Facebook Rareducando. Perché? Perché ho il piacere di presentarvi nel mio ruolo di responsabile di un progetto importantissimo dedicato alle malattie rare che oramai da dieci anni promuove innovazione in questo contesto. Poi ho il piacere di presentarvi un progetto dedicato al mondo del digitale. Grazie alla collaborazione attivissima dei giovani volontari che ci supportano in tutte le proiezioni, le visioni del futuro abbiamo potuto partecipare ad un progetto di TechSoup Federico Perini che ringraziamo l'ha scritto con l'assistenza sempre presente Dottoressa Barbara Bresciani, la quale ci assiste in tutti i nostri passaggi ma soprattutto anche con la collaborazione attivissima di due ingegneri. Da Padova abbiamo Mattia Pavinati e da Zurigo abbiamo Antonio Orghietto. Perché? Perché oggi parleremo di una cosa veramente molto particolare cioè del linguaggio codificato. Di più non vi dico perché scopriremo poi via via durante questo percorso dedicato ai giovani dai 14 ai 24 anni un linguaggio digitale che fa parte della vostra vita e che però deve in qualche modo coinvolgere non soltanto un'attività ma un modo di pensare. Do quindi la parola alla dottoressa Roberta Bresciani la quale vi aprirà al mondo di Rare Educando. Ciao a tutti, io volevo raccontare a tutti i ragazzi che ci stanno seguendo cos'è Rare Educando e di cosa si tratta. Rare Educando è un progetto che è nato nel 2012 dai giovani volontari dell'associazione. Giovanissimi più o meno avevano l'età di questi ingegneri anche molto più giovani e dal 2012 fino al 2020 abbiamo incontrato nelle scuole più di 10.000 studenti portando nelle classi la fragilità e la malattia rara attraverso dei giochi, attraverso diciamo dei linguaggi creativi e da quest'anno però per fortuna Rare Educando si è sviluppato e si è ingrandito grazie anche a TechSoup e al mando Meet&Code e ha prodato diciamo al coding. Ma che cos'è il coding? Oggi lo scopriremo, io anch'io non ne so nulla e quindi ascolto insieme a voi. Ovviamente non è vero, io mi intrometto sempre che Roberta Bresciani non ne sa nulla ma soprattutto non è vero che i giovani non ne sanno nulla perché sono arrivate tantissime domande alla nostra email che poi via via vi faremo. Allora ho il piacere di introdurre quindi l'ingegnere programmatore Mattia Pavinati il quale ci racconterà di lui e della materia. Prego. Allora ciao a tutti mi chiamo Mattia e sono un programmatore. Allora come vedete a schermo oggi parleremo di diversità nell'era della programmazione. Siamo davvero diversi o semplicemente programmati diversamente? Oggi parliamo di due argomenti molto cari a me. La programmazione perché fa parte del mio lavoro nel quotidiano e la diversità perché è stato il modo con cui io mi sono avvicinato all'informatica. Ebbene sì, da giovane mi sentivo un po' diverso dai miei compagni. Non perché avevo la barba a 12 anni o perché non amavo particolarmente il calcio ma semplicemente perché non nutrivo interessi comuni con i miei amici. Tutto ciò cambiò però appena mi sono avvicinato al mondo dell'internet perché lì ho conosciuto nuove persone e mi sono accorto che non ero più solo oppure non ero più io differente ma c'erano tantissime altre persone come me che vivevano le mie stesse difficoltà e in un qualche modo mi ha dato il coraggio per affrontare quelle che io vivevo nel quotidiano come difficoltà e andare avanti insomma. Questa parte è stata molto significativa per me tanto che mi ha spinto a iscrivermi a ingegneria informatica per poter dare la possibilità a tutti quanti di utilizzare internet utilizzare tutti gli strumenti digitali e avere la stessa soddisfazione che ho avuto io e avere anche l'opportunità di conoscere ciò che magari normalmente o nel proprio quotidiano risulta distante. Detto questo, che cos'è la programmazione? La programmazione o coding, come si chiama in inglese, è generalmente composta da due parti, una parte di problem solving ovvero la risoluzione di un problema e la parte di coding che è la parte di tradurre in un linguaggio comprensibile dal computer quella che è la soluzione che noi abbiamo pensato. È un po' come se uno straniero vi chiedesse dove si trova la stazione voi prima fate mente locale su dove sia effettivamente la stazione vi orientate un po' da dove siete pensate, ah prima vai dita a destra a sinistra e poi dopo traducete in un linguaggio che potrebbe essere, non so, l'inglese, il francese, lo spagnolo, il tedesco la strada che voi avete pensato che sia più conveniente per andare verso la stazione. Ma più nello specifico che cos'è un programma? Non so se avete mai aperto un programma con un editor di testo o qualche strumento simile però se provate vedete qualcosa molto stile matrix nel senso un sacco di simboli a caso uni, zeri, caratteri incomprensibili a capo, a caso e questo perché il programma non è altro che una serie di istruzioni scritte in un linguaggio che solo un computer può capire. E allora noi come facciamo a creare dei programmi per un computer? Beh, noi abbiamo visto che questi simboli particolari che solo il computer capisce non sono a caso hanno un ordine ben preciso e quindi noi diamo dei significati a questi simboli in ordine e abbiamo creato dei modi di comunicare con il computer che si chiamano linguaggi perché effettivamente sono linguaggi a tutti gli effetti che non sono capibili subito da un computer ma tramite un processo di traduzione di coding il computer riesce a capire ok, ma che cos'è un programma? Se non avete mai aperto diciamo un programma con un editor di testo o strumenti simili vedrete che all'interno ci saranno un sacco di simboli e caratteri strani che una persona normalmente non riesce a capire anzi, direi che nessuno riesce a capire così ad occhio che cosa effettivamente significa questo perché i programmi sono scritti in un linguaggio che solo i computer possono capire è un linguaggio talmente base che dialoga direttamente con le parti meccaniche e le parti elettroniche del computer è per questo che è così complesso il computer di base non sa fare azioni che noi possiamo reputare semplici come per esempio moltiplicare dei numeri lui al suo interno ha delle informazioni veramente, veramente base come per esempio l'addizione e sa fare solo quello noi dall'addizione magari la sua attrazione riusciamo a costruire cose sempre più complesse finché basandoci su questi piccoli mattoncini riusciamo a fare cose come giochi, programmi video, musica e quant'altro ma è difficile scrivere un programma se dobbiamo scriverlo nel linguaggio del computer perché è fatto da questi simboli molto complessi cosa possiamo noi usare per creare un programma e magari che ci risulti anche semplice che non sia difficile da fare beh noi abbiamo visto che questo insieme di simboli non sono a caso hanno degli ordini ben specifici e quindi abbiamo dato a quest'ordine dei significati abbiamo detto che quando esistono tre caratteri di un certo significato assieme allora dobbiamo rappresentarlo con una somma quando esistono altri caratteri diversi ma sempre tutti uniti tra di loro allora quella è una moltiplicazione quando ce ne sono quattro di caratteri seguiti da un asterisco per esempio la dobbiamo interpretarlo come leggere un carattere da tastiera e cose di questo tipo e poi abbiamo trasformato questi questi simboli nuovi creati in linguaggi veri e propri al giorno d'oggi ci sono tantissimi linguaggi alcuni basati sull'inglese alcuni completamente a caso adesso ve ne mostrerò alcuni e tra l'altro vado anche tra quelli un po' più strani per farvi vedere quanto è effettivamente vario il mondo della programmazione esistono dei linguaggi che sono altamente incomprensibili ma pienamente pieni di significato come questo dal nome anche abbastanza criptico o il linguaggio tra virgolette molto carino che si chiama LOL code che si basa su un inglese sgrammaticato hi che sta per hello però scritto male ken has standard input e da lì altre tipo che thanks by che è un modo molto carino non carino ma gioca un po' sulla logica inglese per chiudere un programma questa è una piccola sequenza di istruzioni che chiede al computer di avere un mezzo per fare input e output ovvero di scrivere e leggere a schermo stampa la scritta ciao mondo sempre ovviamente per restare in tema in un inglese sgrammaticato e poi chiude il programma sarà un programma molto base però è molto più semplice scrivere una cosa del genere per quanto sia sgrammaticata in inglese piuttosto che scrivere una serie di simboli 1 e 0 che anche ad occhio una persona non riesce a capire ma questo non è l'unico modo diciamo di creare programmi quindi andare via tastiera esistono anche linguaggi di programmazione che sono puramente visivi in cui i nostri blocchi che possiamo comporre per creare un programma per dare delle istruzioni a un computer sono fatti da piccoli mattoncini visivi che sembrano pezzettini di un puzzle quindi io posso creare un computer cioè posso creare un programma collegando tra di loro questi blocchettini che hanno forme e colori diversi fino addirittura a a costruire disegni o flowchart per chi conosce si è tutto nero flowchart oppure diagrammi che rappresentano programmi un esempio famoso di questo tipo di programmazione è Scratch che è molto usato nelle scuole proprio per la sua interattività e il modo semplice di unire questi pezzi di puzzle per creare programmi da qua si vede come la programmazione diventa sempre di meno parte informatica e diventa più un processo creativo in cui l'obiettivo è sì risolvere problemi ma anche farlo divertendosi e farlo in maniera creativa in modo che ognuno possa portare la propria soluzione all'interno del computer ogni persona poi scusa Mattia se ti interrompo ma colgo l'occasione per rivolgerti una domanda tra le decine che sono qua da noi da noi contemplate nell'altro nell'altro schermo che stiamo utilizzando e quindi mi viene da chiederti il coding quindi può essere applicato a più materie come contesto cioè tu mi stai parlando di un'attività creativa grazie ad un linguaggio e quindi è applicabile a molte materie non soltanto alle materie scientifiche o alle materie tecniche sì allora come dicevo prima ci sono due fasi c'è la fase di problem solving in cui ci viene dato un compito dobbiamo svolgere una qualche attività e quindi prima di tutto dobbiamo pensare a come risolverla ma potrebbe essere tranquillamente un problema di non so di cucina dobbiamo preparare un piatto molto complesso e la prima cosa che ci viene da pensare è abbiamo effettivamente gli ingredienti ci mancano dobbiamo comprarli eccetera e il coding qui ci entra utile come forma di ricettario ovvero io rappresento delle mie esigenze sotto forma di ricetta in questo caso potrebbe essere semplicemente un elenco puntato con delle con delle con degli ingredienti e magari non so qualche appunto su come cucinarlo ma nulla ci vieta di rappresentare gli ingredienti come dei disegni o quant'altro sono tutte forme di coding del nostro problema che poi dopo noi andremo a prendere per risolvere e quindi ottenere la nostra soluzione che può essere non so un piatto cucinato per esempio non so se questo è quello che ti aspettavi come diciamo che da una larga interpretazione l'opportunità di questo linguaggio che potrebbe essere interpretato come molto chiuso e schematico applicato solo a e invece con la giusta conoscenza permette sicuramente di permette delle aperture e sino ad oggi non pensate ma proprio per questo ti rivolgo e magari anticipo i tempi ma un'altra domanda che ci è arrivata oltre all'esempio che tu hai già portato perché non è diffuso nelle scuole tu però hai parlato ora del fatto che questo linguaggio per disegni eccetera è invece diffuso nelle scuole quindi qual è il gap la non conoscenza o la difficoltà per applicarlo allora dalla mia esperienza la difficoltà principale è passare da un da un metodo diciamo di studio da un metodo di applicare la materia a un metodo diverso perché molto spesso magari non so si è abituati a farlo tramite i libri e quindi tutti quanti conoscono i libri ci sono tanti negozi che si occupano di vendere libri e quindi la gente continua a utilizzare i libri ma non è l'unico modo anzi io sono un grande sono un grande fan dei metodi alternativi e purché il messaggio venga portato allo studente o comunque a chiunque ne abbia voglia di imparare sono tutti sono tutti strumenti validi il problema principale è la voglia di voler provare uno strumento nuovo e dall'altra parte la voglia di poter apprendere da uno strumento che magari uno prima non conosceva però più strumenti si hanno a disposizione e più ogni persona può scegliere quello che per lui è lo strumento migliore faccio un esempio in particolare per la diversità perché è una cosa molto comune per le persone dislessiche di non leggere bene alcuni caratteri e purtroppo i libri hanno questo grande difetto che una volta sono stampati non possono più essere cambiati mentre invece il software visivo a pc può cambiare il tipo di carattere su comando quindi se io non sono contento di come vedo il carattere sul mio schermo posso cambiarlo andando sulle impostazioni e cambiando il tipo del font ma non solo se io sono una persona daltonica posso impostare il tema del pc con dei colori che magari mettano in risalto dei contrasti che normalmente io faccio fatica a notare tipo tra il rosso e il giallo oppure non so tra alcuni hanno tra il blu e il giallo quindi a volte il computer può essere una semplificazione su queste cose ovvio che il computer non può essere la soluzione a tutto per esempio per l'attività motoria forza di cose uno si deve muovere se uno vuole cucinare un piatto ha bisogno di un fornello di un forno di un abbattitore di un freezer e quindi non sempre la tecnologia digitale deve sostituire tutto ma senz'altro uno più strumenti ha a disposizione e più può usare quello che più gli accomoda o quello che più viene incontro alle proprie esigenze oppure usare un po' e un po' in modo da arricchire la propria esperienza questo lo posso dire diciamo con tranquillità addirittura persone che hanno distrofie o comunque hanno problemi diciamo nell'uso di matite o quant'altro hanno strumenti che aiutano a utilizzare un computer e queste persone invece che fare i temi in classe di italiano scritti con carta e penna possono utilizzare un sintetizzatore vocale per esempio in cui parlano e il computer scrive per loro oppure strumenti in cui riescono a scrivere semplicemente muovendo gli occhi magari sono casi un po' estremi da vedere in una per vedere in una scuola comune ma sicuramente aiutano e tutto questo quindi fa parte di un contesto di codice quindi di un linguaggio che una volta appreso può essere utilizzato in modo semplice corretto per facevo l'esempio prima del facevo ma senza andare troppo nel complesso pensiamo anche a un linguaggio che abbiamo imparato noi con l'era degli smartphone adesso molto spesso si ingrandiscono le cose o si spostano con le dita o si ruotano sono gesti che magari venivano usati anche una volta ma adesso ancora di più sono diventati nel linguaggio comune adesso quasi tutti i giovani su uno smartphone allargano le allargano le proprie foto dall'applicazione foto usando due dita che cos'è questo se non un linguaggio in cui io rappresento un movimento cioè rappresento l'azione di movimento con un'azione che voglio effettivamente compiere sulla foto non so allargarla girarla ritagliarla o cose di questo anche questi sono linguaggi sono linguaggi dei gesti come per esempio non so la lingua delle delle persone mute che possono essere apprese da un computer quindi se noi ci mettiamo d'accordo che ogni volta che muovo la testa il computer scrive sì anche questo può essere un linguaggio che il computer utilizza per tradurre i miei gesti in azioni da compiere quindi certo che sì ti faccio un'altra domanda Mattia il programma quindi dedicato alla persona che noi identifichiamo come fragile però poi è il focus anche del nostro discorso della diversità la diversità intesa mai come oggi anche in un momento di pandemia dove comunque i ragazzi si trovano diversi perché allontanati perché c'è un divario un allontanamento sociale un allontanamento fisico e il computer diventa quindi il modo migliore per comunicare un ragazzo ha necessità di avere un genitore vicino se è piccolino ma l'approccio al linguaggio della didattica della conoscenza è del bambino è del ragazzo dei 14 anni avevamo scelto noi come fascia proprio per interloquire con i nostri invece autonomo per un giovane di 24 anni che poco differisce dall'età dei nostri due relatori quanta competenza c'è secondo te oggi sull'utilizzo dei programmi tu da programmatore allora allora diciamo che molto molto dipende dall'attitudine di ogni persona perché c'è la persona molto interessata molto entusiasta che non vede l'ora di scoprire nuovi programmi per arrivare ai propri interessi ai propri fini c'è un uso un po' più come se vogliamo non obbligato un po' forzato dalla società per altre persone chi usa il cellulare solo perché è strettamente necessario perché altrimenti non ha modo per comunicare con la famiglia con gli amici quant'altro ma appena l'occasione lo prende lo lancia via sul comodino e non se ne parla più quindi non posso parlare in generale per tutti quanti quello che sicuramente noto è che c'è bisogno di un po' più di cultura di che cosa la tecnologia mette a disposizione quindi tipo non so i programmi che durante non so una pandemia possono esserti utili dovrebbero essere a conoscenza di tutte le persone che non vuol dire che tutte le persone usano quotidianamente questi programmi però chiunque ne voglia poter fare utilizzo deve sapere che quantomeno esistono poi sarà la persona stessa che sceglie di utilizzarli quando gli conviene oppure non utilizzarli in toto in particolare con coding e pandemia quindi speriamo di non tornare in un'altra fase di lockdown ma dovesse mai succedere il coding la programmazione in generale mettono anche a disposizione un sacco di eventi in particolare a ottobre si mantiene l'Hacktoberfest che tra l'altro avevo anche preparato una piccola tab da mostrarvi che che cos'è l'Hacktoberfest è un un evento in cui ci si trova tutti quanti a contribuire a dei progetti liberi e gratuiti per per tutta la comunità dell'internet e se tu aiuti almeno quattro progetti ti viene regalata una maglietta come fai a contribuire a un progetto tu semplicemente entri scegli un progetto di quelli fatti in un linguaggio che tu conosci e aiuti le persone a portare a termine la loro soluzione nel fare questo conosci non so nuove persone impari nuove tecnologie e stai a contatto quindi ti senti un po' meno ti senti un po' meno isolato in questa cultura globale potresti tranquillamente condividere diciamo delle soluzioni con delle persone che lavorano in India o magari non so in America o in Giappone magari parlate tutti quanti lo stesso linguaggio che è il linguaggio che avete scelto per comunicare con il computer e avete un po' un'esperienza di condivisione anche eliminando le barriere fisiche che potrebbero essere il linguaggio normalmente parlato diciamo la nostra madrelingua la nostra madrelingua o magari difficoltà culturali che potrebbero essere approcciarsi con culture di cui non conosciamo niente quindi tu metti cioè stai dicendo che intanto questa cosa può essere fatta a qualsiasi età nel momento in cui hanno piccola media o grande competenza di linguaggio e poi che la diversità addirittura ti correggo questa si può fare addirittura senza nessuna competenza di linguaggio ti faccio un esempio molto molto semplice tanti tante persone tanti ingegneri non sono bravi nell'uso della della dialettica dell'italiano per esempio nel senso non conoscono termini forbiti in italiano e quindi hanno bisogno di tradurre i propri di tradurre i propri programmi scritti in inglese scritto in tedesco scritto in francese hanno bisogno che vengano tradotti non so in una lingua diversa e per fare questo non hanno bisogno di grandi competenze informatiche hanno bisogno semplicemente di una persona che conosca la particolare lingua che deve essere tradotta e con un po' di aiuto gli si fornisce gli strumenti che aiutano a tradurre un programma in inglese quindi ti permettono di usare danno a te l'opportunità di tradurre un intero programma in una lingua nuova che ovviamente magari tu conosci bene quindi potrebbe arrivare una persona da me e mi dice guarda io ho fatto questo bellissimo programma per non lo so per calcolare per prevedere non so il tempo il meteo che farà domani a casa mia però è scritto in tedesco scusa potresti aiutarmi a tradurlo in italiano e dico sì io l'italiano lo conosco ti do una mano e ti scrivo il programma tu dimmi di che cosa hai bisogno e ti do una mano questo non prevede nessun tipo di conoscenza informatica però comunque dà una mano a progetti informatici che sono che sono cosiddetti open ovvero che sono aperti a tutto il mondo bellissimo quindi qua parliamo veramente di una rete trasversale che in base agli interessi condivisi può portare a raggiungere un obiettivo insieme e questo lo può fare solo in digitale tra l'altro a questo punto non occorre presentarsi sono alto bello sono piccolo e grasso ma comunque per quello che vali e non per quello che sei c'è un'inclusione sociale di altissimo livello e qualità quindi grazie a queste a queste open source corretto poi ovviamente sta anche diciamo alla persona che cerca saper cercare il progetto che più fa per lui perché ovviamente nel mondo nel mondo open c'è di tutto quindi ci sono i progetti semplici ma ci sono anche i progetti molto complessi in particolare anche Microsoft sta spostando quasi quasi tutto il proprio il proprio lavoro in un mondo open però fanno progetti molto molto complessi anche Facebook ha una branca di open source come Google e come come tanti come tanti altri quindi abbiamo l'eccellenza e abbiamo anche le cose le cose più semplici poi sta a ogni persona a scegliere ciò che più gli interessa dal punto di vista dell'argomento e gli attiene dal punto di vista della complessità fantastico quindi c'è molta creatività anche dietro l'attività di un ingegnere quello che sostengo tantissima tantissima nel quotidiano vi conosco perché dove devo condividere con tutti i nostri ascoltatori che questi due ragazzi questi due giovani ingegneri sono i miei mentore in tantissime attività e io puntualmente da loro prendo informazioni fantastiche che mi caricano di energia bene Mattia quindi a questo punto la tua presentazione deve toccare dei punti strategici per poi rimpallare l'argomento anche con il tuo collega che è un ricercatore ingegnere quindi un programmatore e un ricercatore cosa vuoi puntualizzare per far comprendere ai nostri giovani e spero che poi la cosa interesse ovviamente anche a larga fascia molti adulti questo l'importanza dell'approccio non dico della conoscenza ma dell'approccio al coding aspetta fammi fammi capire fammi capire bene tu mi chiedi se ci sono dei punti in particolare che aiutano le persone a comprendere l'approccio del coding giusto? esatto esatto sì allora se dovessi riassumere tutto i punti i punti chiave sono comprendere bene comprendere bene il problema la richiesta la domanda e dare un significato alle informazioni che ci circondano per poi trovare la soluzione che no non mi piace come definizione penso che i punti chiave siano il problem solving in sé per sé quindi la parte di riconoscere come si affronta un problema e la parte di coding in cui effettivamente si trasforma questa soluzione ideata cioè questa soluzione pensata con dei simboli che possono essere capiti da chi poi il programma per chi poi la soluzione la deve applicare nel caso di un computer i simboli devono essere quelli di un computer nel caso di una persona che parla tedesco devono essere la lingua tedesca quanti anni servono Mattia per arrivare ad avere una competenza di base ad un linguaggio che permetta di dialogare con un computer che vuole sapere solo quello che parla solo quel linguaggio specifico allora dipende dal tipo di problema perché per problemi semplici penso che già un paio di giorni uno può essere operativo con problemi veramente base poi se il se il problema è complesso una persona può richiedere anche diversi anni di come posso dire di di training per imparare a essere competente in quella materia però io direi che lo scoglio principale non sta nel capire capire il computer ma sta nel capire il problema quello è lo scoglio principale capito il problema tradurlo in qualcosa di comprensibile dal computer è la parte facile e io avevo una domanda Mattia che è arrivata adesso in questo momento e un ragazzo ci chiede ma i videogiochi possono essere considerati coding allora diciamo che sono due cose diverse ma collegate perché qualunque programma cioè qualunque videogioco è un programma nel senso che dà una serie di istruzioni al computer e visualizza a schermo delle cose in base a ciò che fa il giocatore quindi al 100% sono dei programmi e ovviamente come tutti i programmi loro sono fatti con del coding ovvero qualche programmatore ha messo all'interno dei simboli ha messo all'interno delle istruzioni che permettono al programma di capire che cosa fare quando l'utente non so preme qualche tasto sul joystick o non so se nel caso di una Wii per esempio lancia la palla da bullying quando vede nella telecamera che la persona muove il braccio destro quindi sì c'è c'è del coding anzi c'è tantissimo coding nei videogiochi però non sono essi stessi il coding loro sono il risultato dell'operazione di coding ti chiedo un'altra cosa io nel frattempo il nostro ricercatore va e viene perché il brutto tempo invade la nostra Europa e quindi si trova in un'area non molto felice però tornerà presto con noi con un click magico da ingegnere tocco e quindi però io ti faccio questa domanda ed è come mai il linguaggio coding non è conosciuto nella scuola dagli insegnanti perché dovrebbero conoscerlo? Allora questa questa è una bella domanda io penso che il il motivo principale sia di interesse nel senso che a molte persone se non è utile nel quotidiano non si interessano non si interessano nell'imparare qualcosa di nuovo a meno che non sia non so un hobby o qualcosa però mi viene da pensare non so un esempio un professore di storia storia non so un'area specializzata addirittura in storia romana potrebbe non avere particolari interesse nell'imparare un linguaggio di programmazione matematico per esempio e quindi dice ma chi me lo fa fare di impararlo e quindi finché questa persona non vede dei vantaggi almeno questo è quello che penso finché non capisce quali sono i vantaggi dell'imparare un linguaggio di programmazione non avrà nessun interesse nell'impararlo a meno che non venga obbligato tipo non so avrai un premio di 200 euro al mese per imparare questa cosa qua allora potrebbe essere potrebbe dire potrebbe farmi gole imparare questo linguaggio però penso che questo sia lo scoglio principale perché i vantaggi sono talmente tanti che quando uno li conosce è difficile che dica non mi interessa avere tutti questi non mi interessano tutti questi vantaggi certo e quindi diciamo che in questa trasformazione epocale che sta avvenendo più competenza c'è e più ci si avvicina ad un linguaggio tra educatori e ragazzi e più i ragazzi possono essere compresi allora qua ritorniamo sempre al punto iniziale che per ogni problema o tra virgolette per ogni persona ci sono esigenze diverse e quindi magari si vengono a stabilire dei linguaggi che sono differenti quindi non posso dire che a un certo punto arriveremo a un linguaggio universale che tutti quanti parleremo se non il linguaggio diciamo umano che è diciamo dato dal calore dall'affetto di stare vicini e comunicare le proprie passioni l'uno con l'altro quello che io spero andando nel futuro e quindi magari spero che le generazioni future colgano il prima possibile è comunque l'importanza di avere una certa cultura informatica che magari possa specializzarsi in una decina di linguaggi in particolare però che comunque bene o male riusciamo a capirci tra di noi per esempio come noi potremmo in qualche modo capire uno spagnolo magari non sapremo comunicare al 100% correttamente con loro a volte capiremo male alcuni false friends come li chiamano in inglese però magari riusciamo quantomeno ad intenderci magari anche fare qualche battuta e scherzare in compagnia quindi magari non è detto che l'insegnante non so di storia dell'arte riesca a parlare non so un linguaggio di programmazione super moderno complicatissimo eccetera però magari che possa comunque comprendere quali sono le esigenze dei giovani e che i giovani riescono a comprendere non so la materia offerta dall'insegnante secondo te quindi una didattica tramite il web potrebbe aumentare l'interesse potrebbe essere più interattiva e poi un'altra domanda che vorrei porti è utilizzare il linguaggio informatico a questo punto non significa utilizzare il telefonino Allora diciamo che la didattica al web può essere utile come può essere anche dannosa tutto sta nel coinvolgimento perché se una persona è coinvolta e è interessata se si sente coinvolta allora può sviluppare un interesse e può essere attiva se la persona che fa attività diciamo nel web non sfrutta le tecnologie del web è molto facile annoiarsi e addirittura sfruttare il web per fare finta di essere interessati però magari non so mentre si è collegati col web aprire il telefonino e incominciare a smanettare o messaggiare con gli amici e quant'altro quindi sicuramente è un'arma a doppio taglio e come dicevo prima bisogna conoscere i propri strumenti per sfottarli al meglio perdonami la seconda domanda era ah sì se basta utilizzare cioè se parlare il linguaggio informatico equivale a utilizzare il telefonino in un qualche modo sì perché nel senso il telefonino è traspira da tutti i pori il linguaggio informatico quindi anche se tu non vuoi utilizzando un telefonino stai utilizzando il linguaggio informatico in un qualche modo magari non sarà dettagliato come il linguaggio informatico utilizzato da uno sviluppatore o da un ricercatore non so del CERN per esempio ma sicuramente anche quello è un anche quello è il linguaggio del tempo digitale quindi diciamo che come primo impatto può andare il fatto dell'approccio al telefonino all'utilizzo consapevole per capire un linguaggio e per poi via via procedere qualcosa di più evoluto e per procedere e prepararsi ora non so se il nostro Antonio si è rientrato in linea ci senti mi sentite adesso ok perfetto ok adesso facciamo facciamo così io passo le mie slide se avete finito con la parte non ho idea di dove siete adesso facciamo proprio nella tua parte però prima di iniziare le mie slide noi vorremmo palleggiare un po' fra il ruolo di un giovane programmatore di 30 anni e il ruolo di un giovane ricercatore di 26 quindi sottolineo l'età per far capire a tutti voi che ci state ascoltando ci sono praticamente i vostri coetanei e che la mia regia ogni tanto spero che Roberta prendi voce Roberta tranquillamente io parlo sempre quindi per tornare a noi giovani attivi e proiettati nel futuro e quindi che cosa significa essere un programmatore lo abbiamo in qualche modo intuito e essere un ricercatore che cosa significa Antonio? Beh allora significa essere costantemente persi e confusi più o meno questo è la questo direi che è il sentimento comune ma comunque diciamo è molto è molto bello io mi sono approcciato come programmatore alla ricerca all'inizio e poi ho trovato la mia strada più su argomenti teorici però programmare e fare ricercatore sono due cose che spesso sono coincidono quasi nel senso che per fare molte delle cose che devo fare ogni giorno devo effettivamente programmare e fare degli non li chiamo esperimenti no? che per quello quello che faccio io è praticamente fare una un cervello artificiale e provare a vedere se i nostri algoritmi sono in grado o no di portare dell'apprendimento di concetti nuovi quindi insomma le due cose vanno di pari passo e diciamo che essere ricercatore è un po' diciamo uno un po' è un po' perso confermo quello che ho detto prima perché c'è questa frase molto famosa di Einstein che diceva che se sapessi quello che stai cercando non sarebbe chiamata ricerca però però insomma io non credo neanche che sia vero io credo che uno deve avere idee anche nella ricerca e quindi considero comunque due cose considero il programmare essere ricercatore due cose molto molto simili anche perché spesso i ricercatori sono poi accompagnati da molti ingegneri del software quello che non chiamate proprio software engineer che si prendono cura degli aspetti un po' più diciamo un po' più tediosi forse un po' più in cui bisogna stare un po' più attenti che sono quelli di per ad esempio nel mio caso fare apprendimento con cervelli con reti neurali molto grandi che richiedono risorse molto molto difficili da utilizzare risorse perdonami risorse umane o risorse no risorse computazionali computazionali ok pensiero computazionale quindi giusto? sì direi di sì si sposa con questo coding e con questo nel senso come sistema sistema mentale esattamente è nato quindi nella dal tuo dal tuo mondo perso bentornato tra di noi ma quindi c'è una collaborazione attiva tra appunto programmazione e ricerca c'è uno scambio di intempio avete due mondi paralleli no io ho programmato oggi tutto il giorno antichamente e quindi quindi sì insomma diciamo che la ricerca è un po' è un po' un'avanguardia diciamo è tutto è proprio lì la differenza programmazione programmazione è uno strumento che può essere applicato in molti in molti campi per fare molte cose quello che faccio io ovvero intelligenza artificiale si occupa di realizzare dei programmi un pochino diversi però programmare bisogna sempre quindi quello anche è una parte della mia giornata una parte molto molto grossa della mia giornata spesso non sempre dedicata alla programmazione ma tu come ti sei approcciato perché abbiamo sentito questo approccio di Mattia alla mondo digitale pardon al mondo non digitale ma informatico lo sottolineavo perché stavo dicendo una stupidaggine alla potenza mentre tu Antonio per quale motivo ti sei approcciato a questo percorso di vita allora a me interessava tantissimo la storia allora io diciamo che ho programmato diciamo il primo programma l'ho fatto come ho avuto non lo so insomma ero alle medie seconda media terza media comunque era qualcosa che non è che mi prendeva particolarmente l'ho fatto perché dovevo non l'ho fatto perché insomma avevo questa grande l'ho fatto a scuola e poi alle superiori ho scelto piano nazionale informatica del liceo scientifico però non per l'informatica ma per la matematica e verso il quarto anno del liceo scientifico mi sono molto come si può dire infognato su alcune cose come appunto questi codici di cui si parlava nel senso che io mi sono approcciato a questo dalla programmazione web ovvero siti come fare i siti queste cose qua e a me sembra molto piaciuto costruire le cose e diciamo mi è sempre anche piaciuto fare le cose da solo cioè stare nella mia camera fare le mie cose senza che nessuno mi rompesse e questo per me è stato molto bello perché potevo dalla camera mia creare i miei mondi costruire le mie cose senza di fatto interagire a quel momento con nessuno però poi questa cosa mi ha portato a interagire a conoscere moltissime persone e diciamo che quello che sono ora cioè le persone che sono ora è dovuto esattamente a perché mi sono interessata la programmazione cioè io non sarei arrivato a fare quello che faccio adesso se non avessi iniziato col programmare quindi c'è questo per tutti gli utenti e gli astanti e coloro quando avrete un attimo andate a vederli curi di questi due giovani ingegneri giusto per capire con chi stiamo parlando e chi avete oggi come relatori un'altra cosa e poi magari proprio tra di voi anche Roberta serve un'altra domanda e magari ti prego di intervenire quindi tu parli di ricerca però ti occupi di intelligenza artificiale e di robotica ci spieghi un po' ci fai vedere qualcosa certo cioè allora io per ricerca si intende appunto ricerca in intelligenza artificiale io adesso lavoro più come diciamo più che come programmatore come matematico però le due cose appunto vanno di pari passo io quando quando c'è un'idea da testare una nuova in mio caso nuovi questi nuovi cervelli queste reti neurali questi diciamo cervelli artificiali che si costruiscono una ipotesi di come fare ad esempio un nuovo cervello questa configurazione di neuroni che piace ad esempio serve programmarla serve farci sopra una bella teoria che appunto questa è la parte di ricerca però poi le cose vanno testate scientificamente e tra l'altro c'è anche la questione che i cervelli artificiali che usiamo oggi sono talmente complessi che cerchiamo di capire non che usiamo ma che cerchiamo di capire che abbiamo creato sono talmente complessi che sono totalmente incomprensibili e per capirli serve approcciare questa cosa come fosse al mondo esterno nel senso che questo cervello lo vedo come un oggetto che esiste indipendentemente da me lo studio come lo studierebbe che ne so un geologo un sasso un cosmologo l'universo le foto delle stelle è la stessa cosa alla fine quindi c'è questo cervello questa entità creata da umani chiaramente non è una cosa esterna ma vista come esterna si cerca di studiare e di capire perché come non è capito un cervello umano un cervello biologico non è capito nemmeno un cervello artificiale quindi la ricerca è questa spaventosa la cosa da dire perché c'è un'autonomia di interpretazione incredibile ma anche di azione dove la programmazione deve assolutamente controllare la ricerca altrimenti la programmazione dà l'opportunità di fare ricerca e la fa anche cioè tutto è l'oggetto e il metodo di fare ricerca quindi tradotto linguaggio sì più o meno ma dipende anche da uno alla fine le cose può vederle in molti modi sono molte persone che ad esempio non hanno nel mio gruppo c'è anche gente che ad esempio non ha mai programmato nulla nella sua vita matematici e anche di loro c'è bisogno c'è bisogno di tutti questo è il grande messaggio secondo me la diversità nella formazione anche è molto importante perché alla fine essere tutti uguali prima è noioso e secondo non fa emergere alcune questioni che sarebbero venute fuori altrimenti quindi qui si vede soprattutto qui secondo me la forza nella diversità io la vedo ogni giorno quindi non ho nessun dubbio quindi scusate la diversità non è intesa da voi quanto diversità fisica sociale ma quanto diversità addirittura culturale per una contaminazione nei risultati in modo positivo adesso sì ad esempio oggi che ho mandato oggi io sono più di 24 ore che non dormo comunque oggi dovevo mandare un articolo e l'articolo uno dei più importanti è scritto con queste sono le nazionalità ci sono io un italiano un iraniano un cinese un neozelandese un tedesco fantastico e quindi e poi tra l'altro diversissimi proprio anche con di formazione totalmente diversa non ce n'è uno che abbia fatto la stessa laurea dell'altro e e con diciamo anche abilità diverse cioè uno che sa molto bene ad esempio fare i teoremi fare le cose cioè uno che sa un po' meglio scrivere le cose esprimere i concetti la diversità nella ricerca è tutto se no se no non si va da nessuna parte e della programmazione Mattia la diversità cosa comporta invece? è fondamentale io dico che la differenza non distrugge ma crea ti posso fare un esempio un esempio banale io avevo fatto poco tempo fa un programma pensato tutto è bello nella mia testa lo creo e avevo pensato che alla fine una persona premesse il tasto ok lo faccio vedere a un mio amico e dico ma senti tu cosa ne pensi di questa cosa ti sarebbe utile nel quotidiano e lui invece che premere il tasto ha premuto invio e si è rotto tutto e dico ma è tutta la mia idea bellissima e mi ha fatto guarda la tua idea è bellissima ma può essere migliorata puoi gestire anche questa cosa che magari all'inizio non avevi previsto io non c'ero nemmeno non mi era nemmeno mai passata per la testa questa cosa lui distruggendomela mi ha fatto capire quanto fosse limitata in partenza e quindi io adesso ho l'opportunità di ricrearla meglio questo è diciamo il mio piccolo però lo puoi vedere in tanti modi un modo per esempio che noi spesso non pensiamo quando leggiamo un sito che noi lo leggiamo tutto quanto da sinistra verso destra e quindi molto spesso i menu si aprono sulla sinistra quando uno guarda anche sul telefono i menu si aprono sulla sinistra ma noi non siamo gli unici al mondo e ci sono alcune culture che leggono da destra verso sinistra o addirittura dall'alto verso il basso partendo da destra verso sinistra è il caso tipo delle lettere tradizionali giapponesi quindi quando una persona per esempio giapponese guarda la tua interfaccia di un sito web che hai creato ti dice carimino molto interessante ma non è intuitivo perché io che sono abituato diversamente mi aspetto le cose in modo diverso e tu dici ah grazie che me l'hai detto io farò tesoro di questo feedback e migliorerò il mio sito incredibile e invece la robotica che cos'è ci fai vedere qualcosa Antonio io vi ho vi ho mandato delle slide sul sul gruppo perché purtroppo sono limitato a dei mezzi molto inferiori chiederei a Mattia se cortesamente ci aiuta a fare questo sì andatemi un attimo che apro io non riusciamo a farlo sì grazie allora eccole qua quindi intanto se vuoi parlarci di robotica ma io in realtà robotica diciamo che è una piccola parte volevo un po' metterla un po' un po' più in grande perché robotica è qualcosa è qualcosa di è un'applicazione e è una cosa che mi piace molto fare ed è una cosa divertentissima però insomma i metodi sono quelli della programmazione dell'intelligenza artificiale quindi il discorso si può un po' ampliare anche a questi diciamo poi si va anche sul lato medico sulla bioinformatica tutte queste cose molto belle che sono anche molto molto di moda ok ho recuperato le le tue slide grazie mille poi mi direi tu come mandarle avanti sono tipo cinque quindi non saranno tante comunicazioni grazie mille ho fatto un attimo un intro per presentarmi un attimo io ho fatto liceo scientifico in Italia ho fatto ingegneria dell'informazione con Mattia e poi mi sono mosso all'EPH di Zurigo e ho fatto la magistrale in robotica e adesso faccio ricerca in intelligenza artificiale e ho lavorato anche io come programmatore nell'ambito però della robotica in all'IT se avete presente quella che fa i trapani i trapani rossi in Liechtenstein e poi ho lavorato anche al Max Planck a Tübingen in Germania sempre in robotica in intelligenza artificiale durante la magistrale ho fatto part time come bioinformatico e sono volontario dell'associazione di cui siamo tutti qui parte dal 2012 e per questo riconosco tutti e tutte queste persone meravigliose e quindi questo sono un po' io e potresti andare avanti Mattia per cortesia grazie mille allora tipo cos'è intelligenza artificiale se ne parla ovunque c'è scritto ovunque qua ho messo un po' di minority report qualche 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 film su come moriremo tutti a causa di quello che faccio io però non dovete preoccuparvi perché insomma le cose non stanno molto su questo piano e sì qua vedete appunto ci sono questi avete visto tutti questi questi film in cui si vede l'intelligenza artificiale che diventa troppo intelligente e quindi alla fine distrugge tutto magari fosse così magari fosse troppo intelligente in realtà per ora è abbastanza stupida nel senso che ci sono dei campi molto particolari dove l'intelligenza artificiale eccelle questi sono campi molto particolari ma molto importanti come vedremo però come quello che si chiama questo general purpose artificial intelligence ovvero questa intelligenza artificiale fatta come se fosse un umano cioè un umano sa fare molte cose e una cosa fondamentale che fa un umano è trasferire l'apprendimento tu apprendi qualcosa e il giorno dopo la sai fare da qualche altra parte ad esempio in un ambiente che non hai mai visto prima oppure sei abituato a studiare a leggerti queste ad esempio una persona impara tanto le lingue impara il modo di imparare una lingua e poi quando impara una nuova lingua diciamo che è molto avvantaggiato sa bene come iniziare sa cosa fare gli umani sanno adattarsi in diversi contesti le macchine per ora non sanno farlo assolutamente non parlo solo di programmazione parlo anche di intelligenza artificiale quindi su questo non ci siamo quindi il robot creato per fare una particolare cosa non è che di colpo ti insomma conquista il mondo perché è una cosa che non avrebbe molto senso e soprattutto indicerebbe che davvero abbiamo capito qualcosa che secondo me non abbiamo capito potresti andare avanti Mattia con la prossima slide ti ringrazio e quindi assolutamente no non è questo l'intelligenza artificiale non c'è da pensare a questi robot giganteschi che conquistano il mondo o anche solo che non lo so sono molto intelligenti e fanno sono capaci di fare calcoli molto veloci non è quello di cui si parla e a me dispiace anche che questa sia l'opinione comune perché in realtà l'intelligenza artificiale è qualcosa che non è umanoide non ha nessun tipo di non è non assomiglia molto a un robot anche se esistono i robot e esistono robot intelligenti ma spesso quelli che si vedono come quelli che vengono venduti come robot intelligenti sono solo robot ben programmati dico solo perché l'intelligenza artificiale come vedremo cerca di fare un po' di più cerca di andare appunto su un lato della programmazione che è un po' di avanguardia un po' anche poco ben definito che per definirlo bene uno si incasina parecchio ecco vediamo qua la definizione dell'intelligenza artificiale della Treccani adesso io la leggo per voi la intelligenza artificiale IA una disciplina che studia che studia se e in che modo si possono riprodurre i processi mentali più complessi mediante l'uso di un computer tale ricerca si sviluppa secondo due percorsi di commentari da un lato l'intelligenza artificiale che cerca di avvicinare il computer alle capacità dell'intelligenza umana e dall'altra parte il contrario cioè di capire il cervello umano tramite un cervello artificiale ora io non sono per forza d'accordissimo con questa definizione però dice qualcosa di importante ovvero che ovvero che noi umani siamo particolari cosa ci rende così interessanti perché vogliamo fare delle macchine che ragionano che pensano che sono magari anche umanoici noi pensiamo noi siamo molto diciamo noi vogliamo cose che ci assomigliano perché vogliamo un robot che abbia sembranza umana che faccia quelle cose perché evidentemente pensiamo che siano importanti ma cosa è che effettivamente fa l'uomo che è importante l'uomo crea ha immaginazione sa creare soluzioni sa creare cose nuove da cose che non ha mai visto sa inventarsi nuovi concetti e quindi noi appunto abbiamo questa componente che come Mattia ha benissimo spiegato prima non è per forza una parte del programma Mattia spiegava all'inizio che noi abbiamo di solito una programmazione una buona programmazione inizia col problem solving ovvero uno ha un'idea cerca di implementarla e l'intelligenza artificiale invece cerca di rispondere alla seguente domanda bene e se io non avessi nessuna idea e se io non sapessi assolutamente come fare questo problema si parla ad esempio di programmi per ad esempio riconoscere pedoni per strada per fare macchine che si guidano del sole self driving cars ad esempio qua uno non ha benissima idea di come fare un programma che ti riconosca una persona certo esistono dei modi per cui uno può pensare un programma simile però si è visto in particolare circa da otto anni che tecniche di intelligenza artificiali anche abbastanza rudimentali ovvero tecniche di apprendimento automatico partite dai dati che queste cose funzionano meglio ovvero noi non riusciamo a fare queste cose prettamente umane riconoscere cose e insomma creare e cercare soluzioni non possiamo farlo con programmi classici diciamo e un semplice programma informatico come scrivo qua non può uscire dagli schemi è stato programmato per una certa per fare una certa cosa e fa quella cosa è la base è importantissimo però questa è anche la mia domanda per voi voi vi paragonereste a una calcolatrice a qualcosa che fa conti e basta sicuramente noi dal nostro orgoglio umano diciamo no noi perché noi siamo un popolo di poeti noi facciamo noi siamo noi creiamo da cose che non esistono soluzioni per il mondo per rendere il mondo l'imposto migliore per questo che abbiamo fatto la scienza che F uguale MA la legge di Newton insomma tutto per merito nostro perché noi siamo umani noi siamo appunto siamo umani ed è qui che entra il gioco con l'intelligenza artificiale dice bene ok e se volessi una macchina che fa la stessa cosa che è capace di creare da cose non viste e che sia capace di ragionare e scoprire nuovi concetti e scoprire nuove formule facciamo conto nuove nuovi materiali che possono essere utili per un certo scopo per il bene di tutti allora quindi ho cercato di rispondere a una domanda che abbiamo ricevuto che differenza c'è tra intelligenza artificiale e programmazione nella programmazione vogliamo implementare un'idea che abbiamo in testa con l'intelligenza artificiale vogliamo creare una nuova idea vogliamo che la macchina stessa crei la soluzione del problema in un certo senso si taglia la parte di problem solving questo non è non è per forza un male perché poi il problem solving entra nel costruire questa intelligenza quello che si potrebbe creare chiamare un meta problem solving ovvero un problem solving a un livello superiore superiore non perché meglio superiore perché poi da questo si possono creare altre soluzioni quindi superiori più superiori non è che intendo dire che l'intelligenza artificiale è meglio della programmazione in nessun modo programmazione è la base è anzi più in alto è più fondamentale però lo scopo di un programma di intelligenza artificiale è sempre di programmi si parla comunque è quello di creare delle soluzioni a problemi di cui la soluzione non si sa poi nella prossima slide ho cercato di dare alcuni esempi cos'è che può fare ho messo tre screenshot di tre siti molto 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 belli la prima è la Proceeding of National Academy of Science è uno dei dei giornali più citati al mondo di scienza poi c'è anche Nature e c'è la BBC News da PNAS leggiamo che è possibile predire diciamo strutture cosmologiche con l'intelligenza artificiale ovvero il programma vede le stelle vede questo cielo cerca di capire come è stato creato come è stato diciamo come è stata creata questa configurazione per creati intendo come è venuto a formarsi ovvero qual è stata questa ipotesi cosmologica si parla molto in questi anni di ipotesi cosmologiche per capire esattamente come l'universo si sia evoluto nei primi stadi dopo il Big Bang cioè come è che le cose effettivamente si siano come si siano evolute da questo quindi l'intelligenza artificiale riesce a fare addirittura questo riesce a trovare delle spiegazioni poi abbiamo Nature Nature che ci dice che l'intelligenza artificiale sta cambiando nel modo in cui noi stiamo scoprendo i farmaci ovvero noi diamo impasto al sistema un sacco di informazioni diciamo guarda questa cellula qui ha dentro queste cose qua e queste sono in queste quantità e se noi poi ci mettiamo un po' di zucchero succede questo oppure se noi gli mettiamo un po' di leucina o se gli togliamo le fonti di che ne so idrogeno allora succede questo noi diamo tutti questi dati in pasto a un'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale guarda questa cosa è molto più brava di noi a fare conti ha però questa intuizione umana è capace di dire ok perfetto allora per stoppare questa malattia voi dovreste semplicemente bloccare le fonti di azoto che ne so fine allora ci dice questa informazione noi siamo capaci di fare nuove medicine con questo e poi c'è una parte fondamentale bellissima che è la visione computazionale uno mette un'immagine di una massa non meglio identificata e la macchina è capace di dare una identificazione di questa massa che potrebbe essere un tumore oppure no e superare i medici più esperti perché perché l'intelligenza artificiale ha accesso a tutte le immagini tutti i tessuti che sono state classificate dai medici che hanno visto poi le storie dei pazienti quindi sanno che cos'era questa cosa a posteriori quello magari non era un can quindi viene annotato come no oppure sì e quindi diciamo ha accesso tutti questi dati qua ed è capace di fare delle predizioni pazzesche è capace di queste cose i medici chiaramente non le sanno non le sanno perché hanno un cervello limitato al fatto di essere umani quindi il discorso un po' si inverte e nella prossima slide concludo dicendo che opportunità offre tutto questo beh per voi questo dovrebbe soltanto confortarvi perché non è che si cerca di distruggere il mondo ma si cerca di rendere il mondo un posto migliore poi si cerca di dare un ruolo e una diciamo a tutti questa cosa è estremamente democratica perché tutti possono mettersi in gioco tutti possono vedere il loro problema cosa vorrebbero dal mondo cosa sarebbe bello nel mondo e cercare un modo di risolverlo cercare diciamo di costruire un'intelligenza artificiale che sia adattata che sia capace di apprendere per risolvere quel problema perché per ogni problema serve un cervello diverso e quindi forse il cervello che ci serve è artificiale queste sono due siti che vi consiglio dream challenges che sono delle challenge biologiche che vengono messe con dei dati di importanti casi farmaceutiche che mettono i loro dati in pubblico per far sì che le persone gratuitamente da tutto il mondo proprio ciascuno possa inventarsi le soluzioni per risolvere questi problemi e il secondo è Kaggle molto famoso che dice appunto che è molto simile dove ci sono queste competizioni per risolvere alcuni problemi per mettersi in gioco per avere diciamo tutti insieme per mettersi tutti insieme a risolvere problemi da tutte le parti del mondo soprattutto in questo momento in cui non siamo molto diciamo uniti fisicamente è possibile comunque collaborare anche da casa propria e con ruoli diversi diciamo che se uno non sa programmare anche qui potrebbe fare benissimo altre cose potrebbe essere un esperto di design potrebbe di marketing ad esempio comunque quello che volevo dirvi è che tutto questo rende il mondo un posto migliore più aperto e più unito più diciamo robusto più robusto in generale più robusto a cambiamenti anche perché se abbiamo questi mezzi a disposizione siamo capaci di affrontare problemi nel momento stesso in cui si vengono a creare perché se riusciamo a risolverli stando insieme appunto e cercando soluzioni in questo modo allora possiamo davvero fare tutto e quindi con questo penso di concludere io io direi prendo la parola per il saluto di Mattia se torni con noi e così condividiamo lo schermo per il saluto ai nostri alla nostra diretta forse adesso i miei amici coetani possono comprendere perché non sono mai stanca perché vivo delle vostre emozioni capto raffolgo rimodulo e pam esplodo ogni giorno quindi il ringraziamento ovviamente ai nostri due ospiti in collegamento e a Roberta qui a fianco a me come sempre con una pazienza infinita e ovviamente a Federico che vi saluta e io spero che quello che è stato fatto oggi sia di buon impatto per comprendere tanti argomenti ci vorrebbe forse una settimana di approfondimento e questa è un'occasione che ci è stata data io veramente ringrazio tantissimo i nostri due giovani e il vadisco due giovani volontari quindi trovano anche il tempo nonostante tutto il loro impegno di offrire il loro entusiasmo a P63 Sindrome C International perché perché la diversità è quella che vogliamo non quella che gli altri vedono se noi vogliamo essere diversi dobbiamo anche cogliere il modo per giustificare la nostra diversità in modo positivo e in modo negativo quindi grazie veramente alla vostra spiegazione beh e credo che molto probabilmente gli amici americani chiederanno anche un po' di pilloli in inglese quindi magari vi invito arriveranno extra extra bando extra progetto tech soup che ringraziamo veramente tantissimo per l'opportunità che ci ha offerto e speriamo anche di riuscire a partecipare alle finalissime perché con il vostro contributo magari qualcosa in più ancora potremo fare quindi malattia rara non è diversità ma è opportunità ragazzi grazie un bacio ciao a tutti ciao ciao